eccomi 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 buongiorno amici e amiche rosso neri ragazzuoli belli buona giornata di questo martedì 28 dicembre 2021 ore 12 e 20 e buon mercoledì 29 dicembre 2021 se mi vedi il giorno dopo ragazzuoli belli vi mando un abbraccio a tutti come sempre ragazzi vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione non solo per chi vede i miei video e non commenta come è giusto che ognuno faccia ma anche per chi commenta ragazzuoli belli lo so che molti di voi a volte c'è molta confusione ma adesso facciamoci 4 risate anzi 4 risate ce le facciamo sul finale del video partiamo subito con una riflessione mia personale allora ragazzi la copertina l'avete vista come al solito o se non avete visto fatela rivedere per favore la copertina perché negli ultimi tempi ho iniziato a elaborare in modo un po più fantasioso le copertine grazie alle applicazioni che uso però oggi mi hanno colpito queste parole di Lele Adani molti di voi molto probabilmente Lele Adani lo apprezzano altri magari non lo apprezzano ma di sicuro c'è da dire che Lele Adani di sicuro è scusate gioco di parole è una persona a mio modo di vedere intelligente che analizza in modo sagace le partite e soprattutto come si sviluppano i modi di giocare delle squadre all'interno delle partite a me piace come commentatore Lele Adani in poche parole e ha fatto una riflessione oggi che mi ha fatto un po pensare l'ho letta stamattina poi l'ho elaborata adesso prima di fare il video perché come vi ripeto sono le ore adesso 12 e 21 l'ora prima di pranzo registro senza fare tagli ragazzi sì ci ho pensato stamattina vuoi vedere che Lele Adani ha ragione ma non ne siamo certi non ne sono certo Lele Adani dice ma io non sono poi così sicuro che il Milan abbia bisogno di questo benedetto difensore per me la priorità dice Lele Adani è nel reparto offensivo in attacco un mancino che parte da destra io ci ho pensato e ho detto ma vuoi vedere che ha ragione Lele Adani allora noi abbiamo il problema dell'attacco parliamoci chiaro di quelli che sono i veri e propri attaccanti cioè Ibrahimovic che ogni tanto si fa male Giroud che non ha dato ancora garanzie Pellegri che è un pacco mandato dal Monaco e ho capito ma se io prendo un mancino che mi parte da destra chi è che fa da riferimento in avanti punto di domanda faccio cambiare ruolo a Leao cioè lo lascio lui oppure faccio cambiare ruolo a Rebic che adesso a gennaio grazie a Dio Rebic torna con Calabria torna con Leao no ma cioè perché Lele Adani questa cosa me la dovrebbe spiegare perché non l'ho ben capita sì ha ragione secondo me ha ragione per come gioca il Milan questo benedetto mancino che parte da destra sarebbe una soluzione di armi però ragazzi vedremo adesso faccio una breve riflessione oggi il tantamma dei giornalisti che scrivono parole articoli compagnia bella sta rimbalzando più non posso siamo verso la fine del 2021 stiamo per avvicinarci all'inizio del 2022 il tantamma i tamburi battono come si dovrebbe fare quando si suona un tamburo però questo tantamma dei giornalisti non l'ho ancora capito allora parliamoci molto chiaramente oggi la notizia è per i giornalisti non per me che Adli praticamente al Milan a gennaio non arriverà mai magari avranno ragione loro ripeto magari avranno ragione loro però secondo i giornalisti non si capisce da quale fonte praticamente il Bordeaux ha sbarrato la strada dell'arrivo in anticipo di Adli al Milan perché Petkovic l'allenatore del Bordeaux a proposito lo ricordo che il Bordeaux è con un piede fuori dalla ligand cioè rischia di retrocedere Adli è l'unico giocatore che gioca la grande ed è il terzo in Europa per assist vincenti abbiamo fatto praticamente un affare clamoroso a prendere questo ragazzo e il Milan di buon cuore ha lasciato il ragazzo in prestito per farlo rodare e ha avuto ragione il Milan però io non so questa notizia dei giornalisti da dove arrivi avranno ragione loro ma da dove arriva questa notizia non lo si capisce è vero anche che però il Bordeaux lo ripeto in base a quello che ho detto nel video di ieri per favore vatti a rivedere il video di ieri 27 dicembre il Bordeaux praticamente deve trovare sostituto per forza per Adli perché se questi non trovano sostituto ci daranno Adli ovviamente no questo deve essere chiaro le parolone dei giornalisti trovano il tempo che trovano e adesso facciamoci una bella risata da qui in poi ci facciamo una bella risata e poi le ultime poi le ultime notizie di questo video riguardano quello che ci sta intorno ma una è già collegata a quello che ci sta intorno allora ragazzi lo sapete tutti alcuni di voi ieri me l'hanno scritto ah su Muani non c'è ancora la certezza che vada al Frankfurt nella Bundesliga vedremo come andrà a finire la cosa ma la riflessione era ma è il caso di prendere uno che è lo tra virgolette lo scarto dell'Atalanta invece di puntare su un giovane punto di domanda meglio per me puntare su un giovane comunque ragazzi vediamo allora Dialog lo sapete già dai ragazzi lo sapete già l'avete già letto sembra che il Milan secondo sempre i paroloni gli articoloni dei giornalisti è su Dialog Abdu Dialog chi è sto Abdu Dialog allora Abdu Dialog praticamente è l'ex difensore il Borussia Dortmund comprato praticamente nel 2019 dal Paris Saint Germain per 30 milioni di euro più bonus niente allora praticamente questo ragazzo arriva al Paris Saint Germain sperando di poter giocare il Paris Saint Germain pochettino lo utilizza come terzino ma in realtà lui è un difensore centrale insomma non riesce a trovare spazio nel Paris Saint Germain è inguaiato perché non so se lo sapete il Paris Saint Germain in realtà è una polveriera Keylor Navas litiga dalla mattina alla sera con Donnarumma lo ha fatto anche praticamente ieri addirittura Keylor Navas ha tirato una battuta a Donnarumma sui guanti che vengono utilizzati dai migliori portieri del mondo praticamente Keylor Navas ha ricordato a Donnarumma che lui Keylor Navas utilizza la marca di guanti per portiere dei migliori portieri al mondo e Donnarumma no se le suonano Sergio Ramos un disastro Messi non si è ancora inserito nella squadra insomma praticamente il Paris Saint Germain è una cozzaglia di mega campioni che prendono mega soldoni e devono ringraziare praticamente lo sceicco a Graffi che gli paga i soldi della mattina alla sera ma adesso arriviamo anche sul discorso Paris Saint Germain e praticamente facendo la quadra qualcuno di voi mi chiede come fa l'Inter a rinforzarsi la Juventus con tutti i debiti ragazzi ve lo spiego molto semplicemente semplicemente in una mossa sola le banche che prestano i soldi il problema è che poi le banche i soldi li vogliono indietro e li vogliono anche con gli interessi cioè il problema dell'Inter e della Juventus nonostante la montagna di debiti che hanno le perdite di esercizi astronomiche che hanno non è oggi il problema sarà poi poi quando il problema arriverà il bubone scopierà anche se Suning oggi ha detto che ha eliminato i debiti lo ha detto ai dipendenti della Suning azienda ho pagato tutti i debiti si praticamente lui ha pagato tutti i debiti con il prestito che gli è arrivato dallo Stato cinese poi dopo cosa sarà della Suning lo vedremo più avanti però comunque ragazzi il problema non è oggi lo ripeto per Juventus sarà ancora di più domani e quando scoppierà domani saranno come si suole dire volgarmente parlando cazzi amari allora ragazzi il discorso è questo no perché qualcuno forse ha dimenticato che il debito puoi avere respiro perché gli altri ti prestano i soldi ma prima o poi lo devi sempre pagare non so se mi sono spiegato allora il discorso è questo ritornando al Paris Saint Germain Polveriesse al Paris Saint Germain Kilon Navas che manda quel paese Donnarumma Donnarumma praticamente pieno di tic se voi guardate le sue interviste da quando si è andato via al Milan questo qua praticamente non c'ha più una vita peggio per lui ben ti sta l'hai voluto te il discorso di questo diallo Abdou Diallo insomma che non trova spazio nel Paris Saint Germain è un altro scarto tra virgolette lo dico simpaticamente è messo nell'angolino da Pochettino per cui abbiamo capito che il primo scarto è quello di ieri Muriel Gasperini ha messo nell'angolino Muriel e se lo dovrebbe beccare il Milan Pochettino mette nell'angolino di Allò e se lo dovrebbe beccare il Milan praticamente sembra che il mercato del Milan lo facciano i giornalisti praticamente Maldini, Massara, Moncada e Gazzini si possono stare con le braccia concerte perché fanno tutto i giornalisti tutto loro fanno i giornalisti fanno il mercato del Milan il Milan prende quello che i giornalisti dicono e siamo belli che apposta ma ragazzi così non va così non va io nel primo canale che mi hanno cancellato dissi tempo fa e i miei vecchi iscritti lo sanno a proposito c'è ancora qualcuno che mi sta trovando solo ora da quando è stato eliminato il mio canale allora io ho aperto praticamente questo canale Alex Corrosso Nero il 17 novembre 2021 è da più di un mese che ho aperto questo canale e praticamente ancora oggi c'è qualcuno che mi cerca ragazzi benvenuti e soprattutto ben ritrovati mi fa un enorme piacere ma questo vuol dire cosa di grave succede quando ti cancellano un canale che io avevo più di 11.000 iscritti vengono persi per strada tanta gente non mi trova più ma questo che fino a fatto si disinteressano piuttosto che chi mi ritrova sono veramente contento qualcuno me lo scrive grazie ragazzi ben ritrovati e comunque anche ai nuovi iscritti quelli che non mi hanno mai visto benvenuti nel mio canale però il concetto scusatemi rimaniamo concentrati e non perdiamoci questo è un altro come Muriel che viene messo all'angolino da pochettino di Allò bene e ce lo dobbiamo prendere noi dicevo nel primo canale quello che mi hanno cancellato che la questione è questa se poi mi volete credere bene se non mi volete credere siete liberi di credere a quello che volete sono le società di club e non solo il Milan che fanno la famosa partita scacchi che dicevo nel primo canale partita scacchi vuol dire praticamente tu come società di calcio butti in pasto ai giornalisti voci infondate sui giocatori che vuoi quando poi gli obiettivi sono altri è vero anche che ci sono dei giornalisti che gli obiettivi li azzeccano perché hanno fonti serie è vero anche che la maggior parte degli articoli sui giornalisti vengono scritti tanto per scrivere allora che comunque il Milan si protegga le spalle dal fatto che se la pista Boatman Sven Boatman con Lille non va a buon fine deve farlo cioè nel senso può essere che se Boatman non va a buon fine ieri l'ho detto se c'è qualcosa che di grave si mette di traverso devi avere un'altra alternativa con questo ad esempio esempio di Allò allora ragazzi però c'è un problema che i giornalisti si sono dimenticati di Allò praticamente deve giocare la Coppa d'Africa col Senegal bravi giornalisti ci avete azzeccato alla grande di Allò di Allò che secondo voi deve sicuramente venire al Milan al posto di Sven Boatman deve giocare la Coppa d'Africa col Senega ergo per voi giornalisti i nostri dirigenti sono degli scemi messi in piedi non dico chi sono i veri scemi messi in piedi però ci siamo capiti dai ragazzi questi veramente fanno ridere proseguiamo c'è una bella notizia che riguarda sempre il Paris Saint Germain adesso parliamo del calcio intorno al Mina perdita esercizio del Paris Saint Germain meno 200 milioni di euro ma scegli qualche lafi ma lei non ce li mette più i soldi lei si vanta tanto che ha speso in 10 anni più di un miliardo di euro solo per comprare i giocatori e per sponsorizzare il suo stato emiratino insomma e tutte queste cose qua ma quanto pare lei quando ce la mette i soldi per le perdite non interviene zero e no lei è il presidente dell'ECA nomirato da Keferin a tutti quanti gli altri ha preso il posto di Andrea Agnelli ma i soldi dove sono ma faccia come la Juventus che ha fatto un bel finanziamento con Exor di ricapitalizzazione di 400 milioni di euro che poi Exor dopo questa ricapitalizzazione ha già avvisato quella della Juventus mai più nella vita perché i rubinetti ormai sono chiusi e vedrete che la Juventus in futuro si cercherà un socio ma Paris Saint Germain sceicco no perché io lo dico anche a quelli che dicono lo sceicco ci farà felici ricchissimi ma dov'è questo sceicco sceicco tira fuori i soldi hai una perdita di meno 200 milioni di euro il tuo Paris Saint Germain che fattura la grande dove sono sti soldi sceicco comunque Leonardo dimostra grandi doti manageriali lui l'estate scorsa l'estate 2021 Leonardo doveva vendere dei giocatori per riequilibrare la perdita di esercizio sapete quanto ha incassato al 31 agosto 2021 Leonardo il nostro ex Leonardo un grande dirigente 9 milioni di euro Leonardo sei tutti noi ma meno male che ci hai portato via Donnarumma ma guarda l'operazione più giusta l'hai fatta perché te l'ha chiesta Maldini porta via questo qua che ci fai un grande favore vi siete parlati tra di voi Leonardo e Maldini Leonardo l'unica operazione lo ripeto giusta che hai fatto è questa poi attenzione Leonardo vuole incassare 100 milioni di euro per ridurre la perdita di esercizio entro il 31 gennaio 2021 sei grandissimo e chi c'è dentro in questa operazione dialog dialog che i giornalisti vogliono Almina ragazzi facciamoci tutti una risata adesso parliamoci di cose un po' più serie e concrete allora Oliver Kahn è praticamente il numero uno che ha preso il posto di chi sappiamo già del Bayern di Monaco insomma Kahn adesso è il numero uno del Bayern di Monaco ha ieri semplicemente detto una cosa sacrosanta bisogna mettere un tetto salariale agli stipendi dei calciatori e come bisogna farlo? bisogna farlo che bisogna creare una legge interna al mondo del calcio per cui a livello di UEFA la FIFA sicuramente dovrà dire di sì per forza dove praticamente le società di calcio i club di calcio possono utilizzare solo il 60 massimo 70% dei ricavi per pagare gli stipendi ai calciatori cioè questo vuol dire che se tu fatturi faccio un esempio 200 milioni di euro bisogna calcolare il 60 volendo il massimo il 70% di cifra di ricavi cioè non fatturazione devo parlare più correttamente di ricavi se hai dei ricavi di 200 milioni di euro devi calcolare massimo il 70% di quei soldi il 70% li devi utilizzare per pagare gli stipendi chiaro qual è il concetto Oliver Kahn lei è un grandissimo l'ho sempre detto anche nel mio primo canale Repetita Juvent mi stavo impappinando serve proprio per farvi capire meglio Repetita Juvent sul fatto che nel primo canale lo dicevo sempre il Bayern di Monaco è il nostro modello il Milan in futuro sarà il modello per gli altri e poi ragazzi oggi l'associazione calciatori praticamente sulle parole del suo presidente ha detto una cosa importantissima sacrosanta che anche questa io sposo in pieno che è questa dobbiamo diminuire le partite di calcio perché i grandi campioni non ce la fanno più adesso poi si vorranno fare il mondiano ogni due anni ma anche infantino ma signore infantino ma lei come fa a proporre una roba di genere il mondiano ogni due anni vuol dire avere calciatori scassati dalla mattina alla sera soldi che escono fuori dai club più indebitati ancora complimenti ormai il mondo ormai il mondo è andato a ramengo il mondo è andato a ramengo cercate almeno voi di essere sani mentalmente perché sennò qua non ce la faremo più forza Milan sempre comunque ovunque è uno spettacolo